duramente da stamattina come spaccare le pietre proprio, i ragazzi sono stati meravigliosi voi avete sentito adesso chi ha assistito al concetto di questa sera, ha sentito la metà della musica che questa mattina i ragazzi hanno suonato, quindi hanno fatto un gran lavoro veramente, certo il loro lavoro non sarebbe mai stato possibile se i loro insegnanti non avessero fatto a loro volta, il loro lavoro egregiamente, io veramente c'era un grande applauso l'altro applauso certo ma ce ne sono stati già tanti, facciamone ancora uno, agli organizzatori perché veramente è un grande applauso bravo, bravissimo adesso è una parte ufficiale oh certo dunque, adesso non è difficile spiegarsi ciascuno di voi avrà maturato una sua idea, ah secondo me quelli sono i primigliari, secondo me quegli altri noi abbiamo avuto l'onore, anche l'onere evidentemente di dirimere questa cosa devo in accordo veramente con le mie amici sottolineare che la valutazione che la Giulia fa in questo caso prescinde abbastanza, diciamo umani però prescinde diciamo dal semplice aspetto emozionale per cui non è quello che mi è piaciuto così perché la musica la conoscevo e mi ha fatto piacere di ascoltarla abbiamo chiaramente insomma ci siamo ispirati così a una valutazione oggettiva per quanto oggettiva possa essere una valutazione voi perdonerete se per qualcuno di voi la nostra decisione diciamo che si non garba certo le cose che abbiamo valutato sono molteplici quindi non solamente l'appeal del brano va bene, perché poi ciascuno di loro ha suonato, ha interpretato brani diversi per cui non abbiamo confrontato l'esecuzione sullo stesso brano chi la faceva meglio, diciamo e allora abbiamo valutato tante cose abbiamo valutato, che so, quello che anche voi potete avere apprezzato l'entusiasmo con cui l'hanno eseguito e va bene, questo sì però anche la loro disciplina per esempio, sul palco ma disciplina non è una cosa esteriore cioè non è come veramente mettere il vaso di fiori al centro d'aula e tutto in ordine e viene da dentro e la musica questo ce la insegna come siamo poco poco in sintonia con la musica la musica quasi ci obbliga ad essere disciplinati ma la disciplina è quella bella, diciamo così, quella pulizia va bene, che la musica ci insegna che la musica esige da tutti quanti noi ecco perché in primis ci siamo trovati d'accordo ma è facile essere d'accordo su questo cioè che la musica educa loro hanno scelto un percorso che è quello di